Musica Vi portiamo come promesso in un luogo speciale, un piccolo borgo medievale a pochi chilometri da Arezzo che è diventato un luogo di pace ed è Rondine, un progetto davvero di costruzione di pace, Rondine, cittadella della pace, un luogo dove si concretizza un impegno a favore della pace e della cultura del dialogo da oltre 25 anni. Si realizzano progetti, si concretizzano relazioni, lo studentato internazionale, le scuole di formazione e altri progetti ancora che radunano giovani da tutto il mondo a Rondine e che si spera diventino i futuri costruttori di pace. Ne parliamo con Franco Vaccari, presidente di Rondine, cittadella della pace. Buongiorno e benvenuto a Padre Pio TV. Buongiorno a voi. Ho cercato di sintetizzare quella che è una storia straordinaria, lunga e affascinante, ovvero la nascita di Rondine, cittadella della pace. Se vuole darci il suo riassunto e la sua sintesi ci dica pure che cos'è e cosa rappresenta Rondine. Sì, riassunto l'ha fatto già molto bene lei. Forse conviene anche dire ai nostri ascoltatori che nasce nel 1995 durante la guerra tra Russia e Cecenia nel Caucaso del Nord. Lo ricorderanno in molti, fu una tragedia, la capitale della Cecenia fu rasa al suolo e noi di Rondine fumo chiamati a fare la mediazione di pace durante questa guerra e mettemmo a fuoco la prima tregua di quella guerra. Il progetto prevedeva che avremmo ospitato in forma riservata due delegazioni, come si fa sempre, come vediamo in questi giorni, il primo a mettersi al tavolo delle trattative. Poi però la tregua saltò e non vennero più le delegazioni ufficiali, ma arrivarono tre ragazzi ceceni e due ragazzi russi. E come dico io è andata molto meglio perché abbiamo cominciato dai giovani e siamo sempre lì con i giovani da più di 25 anni che tengono duro per così dire, perché da allora le coppie di nemici delle varie guerre di cui è insanguinato il mondo vengono a Rondine e in un programma di due anni cambiano il modo di vedere l'altro, che scoprono non essere mai un nemico, ma il nemico è una costruzione avvelenata della propaganda dei governi. Ci sono, ecco lo ricordavamo, giovani riuniti da tutto il mondo e davvero in loro si ripone poi quella che è la speranza di un futuro di pace e un'esperienza come quella di Rondine sicuramente getta giusti semi affinché si costruisca anche una classe dirigente del futuro che abbia davvero uno sguardo di pace e soprattutto che concretizzi nella quotidianità quello che è il sentimento di pace. Le parlava di progetti, a proposito di progetti, dopo il primo incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo tenutosi a Bari voi avete avviato un progetto che è diventato un'opera segno proprio su iniziativa della conferenza episcopale italiana e il progetto è appunto Mediterraneo frontiera di pace, educazione e riconciliazione. È un percorso di due anni di formazione e di accompagnamento proprio nella progettazione che ha coinvolto diversi giovani provenienti da diversi paesi del Mediterraneo caratterizzati da situazioni di tensioni e di conflitto e che si ripeterà anche ora dopo questo appuntamento di Firenze. Sì esatto, noi siamo stati invitati dalla conferenza episcopale già al primo evento a Bari due anni fa, prima della pandemia e ci fu affidato con la Caritas nazionale e le sue delegazioni territoriali in giro per il Mediterraneo questo progetto che è attaccato per così dire alla World House, allo studentato internazionale. Anche qui abbiamo selezionato dei giovani futuri leader molto promettenti, li abbiamo formati a una mentalità di dialogo e di pace e poi li stiamo accompagnando in progetti di ricaduta sociale, progetti concreti che piccoli o grandi che siano provano a cambiare le cose nei loro territori con uno sguardo diverso sulla realtà. E questa esperienza sta andando molto bene e così anche a Firenze è dato per così dire il bis di quella esperienza. Selezioneremo altri giovani dai paesi del Mediterraneo e faremo quello che stiamo già facendo con i primi 12 studenti, ex studenti, ormai sono giovani professionisti. E mi sembra molto bello che quest'anno i Vescovi hanno voluto unire a dei giovani che selezioneremo con loro, dei giovani che selezioneremo con i sindaci delle città, in maniera tale che questi giovani che torneranno nei loro territori saranno dei ponti viventi anche tra le istituzioni religiose e le istituzioni civili. Dottor Vaccari, questi giovani che sono a Rondine, abbiamo davvero un minuto, quindi le chiedo davvero un flash su questo, che sono giovani appunto che vengono da tutto il mondo, ci sono russi, bosniaci, in queste ore ovviamente drammatiche che stiamo tutti vivendo, come stanno reagendo? Sentono un impegno ancora maggiore per diventare davvero costruttori di pace? Guardi, ogni volta che c'è una crisi nel mondo, a Rondine la prima cosa accade il silenzio. E credo che è un valore questo silenzio, perché è come interiorizzare il dolore del mondo. Perché questi giovani hanno a casa i loro amici, la loro famiglia e quindi ogni volta c'è il vero timore. Quindi qui si sente e si respira il dramma della guerra. Poi insieme ci si domanda quale sia la cosa che si può fare, perché è sempre possibile fare qualcosa, sempre è possibile uscire dall'indifferenza. Non importa se sono grandi gesti o piccoli, ma ognuno può fare la sua parte. La guerra vediamo che avanza proprio sempre, e anche l'ora che stiamo vivendo c'è la testimonia, perché c'è una sorta di indifferenza, di un ottimismo superficiale, stupido. Invece credo che per essere costruttori di pace bisogna vigilare, non essere indifferenti. E anche i giovani russi, l'altro giorno nella cattedrale di Arezzo, insieme a tutti gli altri giovani dai paesi in guerra, hanno dato una splendida testimonianza e hanno detto, ahimè, che mentre continuiamo a essere fieri del nostro popolo, fieri della nostra cultura, ma ci vergogniamo per quello che sta succedendo. Ed è stato accolto da un calorosissimo applauso di una cattedrale gremita di persone, di giovani, che hanno capito il dramma dei giovani che sono ancora qui a raccogliere i fallimenti dei loro genitori. Ha fatto bene a sottolinearlo che ci sono tanti giovani, nuove generazioni appunto in Russia, che sono anche loro tristemente vittime ovviamente di questa assurda guerra. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, ricordiamo il sito rondine.org, per chi vuole approfondire la conoscenza di questo progetto che è appunto Rondine, Cittadella della Pace. Grazie, buona... Grazie a voi, grazie, buon lavoro, grazie. Buon lavoro anche a voi, buone cose, sappiamo che ci sono ancora tanti progetti in corso e auguriamo davvero alla comunità di Rondine di portare a termine tutti i progetti pensati davvero per un futuro di pace. Grazie.